Inesorabile, sanno tutti quanto sia inspiegabile, quanto sia terribile l'angoscia, la disperazione. Calci in culo e dritti al lavoro, calci in faccia e dritti all'ospedale, va la gloria, combattere l'io interiore. La disintossicazione, Jim, è in atto. Hai premuto il grilletto e ora sei qui. Hai ricominciato a respirare e ora sei qui. Dovrai lottare contro di me per uscire. C'è un lavoro da fare, preparati. Soffrirai e alla fine potrai iniziare il lavoro. Se riuscirai nel tuo intento, allora ti sarà tutto più chiaro. Non perdere altro tempo. Soffri. Apriti. Dilagnati. Illuminati. Dai inizio al processo mentale e fisico. Direno. L'alto. Grazie a tutti.